Benvenuti all'edizione anniversario del Vico Santa Elisabetta, vi ricordate questo posto? Abbiamo fatto i primi video deficienti nella nostra storia carierica in YouTube, vi volete vedere Vico Santa Elisabetta, passano pure le vecchiette che fanno parte del nostro video, arrivederci. Vico Santa Elisabetta Vico Santa Elisabetta Vico Santa Elisabetta Vico Santa Elisabetta reincarnazione arrivederci